Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo vlog. Ho una brutta notizia da darvi, non provavo più niente per Alessio e siamo ritornati amici, però niente di che, oltre quello, poi ieri è stato un po' un casino, quindi è stata una giornata proprio signor no. Però vi do comunque un consiglio, godetevela perché ci sono quelle giornate in cui va tutto male, che sembra che non c'è una video uscita, ma credetemi che c'è, e quindi oltre quello nulla. E vabbè, chi mi raccontate di questi giorni che fate? Immagino che molti di voi saranno ancora a scuola, anzi no, hanno finito ieri, hanno finito ieri di andare a scuola molti. Scrivetemi qui sotto se avete altri giorni in cui dovete andare o se avete anche voi finito. Salute, allora oltre quello nulla, io ieri nulla di che, sono stata tutto il giorno a casa ad annoiarmi perché dovevo tenere mio padre e tutto, e quindi nulla. Oltre quello, niente. Sì, c'è Alessa che mi sta scrivendo, adesso vado a rispondergli. E godetevi questa giornata anche se a volte, anche se è vero che a volte non sono proprio bellissime. Allora, per oggi è tutto, lasciate like, iscrivetevi al canale se volete unirvi alla Asafamily e noi ci vediamo domani con unissimo blog. Ciao!